salve amici nell'ultimo video ci siamo soffermati su resident evil 0 e oggi ci soffermiamo ancora perché vogliamo cercare di ammazzare i due mostri i due zombie i due zombie quelli che si allungano che fanno qui ce ne abbiamo due non abbiamo un'arma non abbiamo nient'altro abbiamo sette colpi di fucile soltanto qualche qualche ricarica di pistola lancia granate niente come sopravvivere si stiamo sopravvivendo in pratica stiamo cercando di finire questo gioco sono già due settimane stiamo sopra allora 17 chiesa 17 19 biblioteca in biblioteca billy biblioteca vediamo non lo so non so andiamo con rebecca figlia rebecca stanno entrando in un mondo in cui regna la follia stanno entrando che sono già entrati nuovi costumi con billy continuiamo sempre col nuovo costumente allora qui siamo in biblioteca in pratica vediamo la mappa allora dobbiamo aspetta vediamo prima dove si trovare bene non c'è è sparita non esistono no giù giù vabbè per questa anni devi vedere se c'è qualcosa cosa no tu devi andare dove c'è il buco e lì c'è il mostro qui dove c'è il buco qui vicino al puntino blu si deve vedere se c'è qualcosa lì però con lei però si riesce ad andare subito però secondo me ti incastri subito da dentro allora ci incastriamo ah sì allora sto con rebecca sto in attenzione 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 non ho colpi di pistola bene ah no quindi dobbiamo ci dobbiamo far mandare un po di proiettili al massimo sì e anche le mani le bottiglie le moto e bottiglia morto partiamo così allora passiamo con questo congegno che si trova nella villa dell'ombrella quindi che devo fare non riprendere di rimandare a lei che dobbiamo andare ok ma andiamo vediamo se le mani non le manda vedovo riprendere devo rimanere c'è qualcosa ma forse la prima mandata in giù si abbiamo fatto sopra giù sopra giù se le mandiamo a vicenza inviare un oggetto la sala operatoria si si rifiutate le bottiglie tornano indietro si vabbè che lui pure sta messo male a quattro corpi un po ma ancora vabbè proviamo con rebecca vediamo nell'ultimo video era come morire in cinque minuti si adesso in tre anche a me in 30 secondi quindi abbiamo mandato torniamo a rebecca e rebecca le bottiglie bottiglie con con un fazzoletto dentro da un po di benzina secondo loro ce la faremo vai la grande che poi non ho capito come rebecca riesce ad accenderle dice la gente non c'era già ci sono già ci sono già ci sono già ci si si tenta si racconta ci si vedi già c'era alla città alla città alla azione beh diamo un po di azione dai tanto non penso di non diremo non penso di campare 30 secondi un minuto penso proprio di no tonometro o cacchio quindi esci di là anche in questo corridoio qua stanno in mostro o là dentro o nell'altra stanza probabile vediamo se sta qua lo scansi eccolo vieni vieni ti aspetta no ma è solo la musica non posso abbassare un po il volumen non basta un po il volumen della tv vorrei che poi si sentisse il bordello basta così vai no ma in pratica qui c'è solo questa stanza noi non l'abbiamo ancora no ma se proviamo a scansarlo rilancio uno e poi non lo so e quali andare tu muori non la becca morire non morire da la azione se ne va lui venga se ne va 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 cosa un momento sanguisuga una collezione di centrali di sanguisuga ah questi sono pulsante si certo prendi pulsante oh cacchio brilla ah una delle capsule brilla quindi è durato il momento qui tipo scappo io pericolo sta eh lo so siamo morti siamo morti siamo morti siamo morti quanta è durata questa? 5 minuti più o meno no nemmeno secondo me no e ho messo anche base però adesso visto che sappiamo come cosa prendere da questa stanza non c'è bisogno di ammazzarlo questo mostra questo che non abbiamo un cavolo per ammazzarlo di beccare ti becca comunque eh? di beccare ti becca lo stesso la becca Rebecca eh ma se facciamo andare Rebecca ci becca eh la becca sicuro ma con Billy possiamo andare noi? no non puoi andare sopra però se prendo l'ascensore si eh c'è l'altro mostro primo che esce lo mostro ma di salute dovrebbe stare meglio Billy allora Rebecca è salita con l'arpione sopra eh? quindi Billy non può salire eh ci facciamo mandare l'arpione eh farlo andare prova ci facciamo mandare l'arpione e andare Rebecca prova proviamo e lui sta in ottima salute capito? lo vedi aspetta che abbandonò un po' di colpa ok poi da Rebecca e mandagli l'arpione eh questo lo lasciamo lasciamo il lanciarazzi lo lasciamo qui stesso tanto non abbiamo copy per il momento ok se ci facciamo mandare il l'arpione sale lui li mandiamo l'arpione eh non usassano le bottiglie li mandiamo l'arpione salano le bottiglie dentro togli le annaggia delle bottiglie eh e perché non fa? eh no vai da lui e togli la bottiglia prima non hai fatto sta lampeggiando la spia luminosa eh giusto togli la bottiglia togli la bottiglia chiudi 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 vai da lei chiudi la bottiglia chiudi lo sportello vai da lei torno da Rebecca mandagli la più invia un oggetto alla biblioteca ma entro l'arpione beh non lo so fatto eh no questo oggetto è troppo grave hai visto? ma mettilo così caro mettilo di lato mandare un pezzo lavoro eh no quindi lui non è giù rimane su rimane su e le tue c'è chi rimane giù c'è chi rimane su io rimango su ci puoi farci niente non ci possiamo farci niente niente vabbè dai ottimiamo dalle bottiglie almeno non mandare nuove le bottiglie da lui lui deve mandare bottiglie che lo so eh che gli fatti eh almeno che ti che lo bruci un po' ma bruciamo un po' lui non può fare niente non lo so tutto l'idea dobbiamo cercare di uscire di vita quella stanza l'obiettivo di oggi è poi uscire vivi dalla stanza dello zombie che dice pure l'ama che siamo eh c'è un'altra mappa che facciamo la mappa portanto uscire vivi la mappa una volta che entriamo in una stanza poi dice ci compare allora equipaggio no se sto compiando non ho preso niente prendiamo la bottiglia c'è qualcosa dentro qualcosa cocktail una bottiglia di cocktail allora sì sì abbiamo capito dai equipaggiamo equipaggio forza 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 è acceso uscire vivi uscire vivi dalla stanza obiettivo giornaliero no vuoi vedere se era chiusa prima siamo morti vieta vedi se riesce a finire cazzo il commento aspetta aspetta ma lascia ma lasciami scappa, scappa, fissa ma cosa ti ho fatto? scappa, non ci scappa dai dai che sei incastrato non è che possiamo scappare prendi 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 se riusciamo a scappare è fatta prendi prendi via siamo riusciti nel nostro intento scappa, scappa scappa eh si ce l'abbiamo fatta obiettivo aggiunto obiettivo raggiunto e adesso? attenzione obiettivo raggiunto ormai lo troviamo anche qui no, entra qua la capsula la capsula si la dobbiamo mettere muovi di qua eh proprio in questa stanza forse questo qua non lo so è stato riempito di liquido biorganico la strumentazione circostante è accesa ma lo vedi di muovolare qui ci sono i colpi del... vedi qua che si può fare? e qui forse è il laboratorio no, là quindi dici? può essere? non mi ricordo ah vedi? non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo ma sicuramente se non è quello no dove lo devi mettere? ma avvicinati vicino esamina esamina vediamo vediamo che c'è dentro ah c'è una scritta dietro gira sempre con te non esemplare ah che ci facciamo cosa? non c'è modo di aprire il coperchio forse è sigillato con un tipo di materiale speciale non è che devi usare non lo so un liquido che c'hai quella nella valigetta e dobbiamo vedere ma va a combinare quella con la valigetta dobbiamo vedere va bene dai dobbiamo dobbiamo vedere bene comunque chi ha già finito questo gioco magari ci può dire magari in questo momento come andare avanti e come continuare con la sanguisuga con tutto il resto non lo so però comunque sto video terminiamo qui e noi comunque continuiamo ad andare avanti magari e niente vediamo cosa succede lasciate un like e un'iscrizione giusto? giusto? e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao